La donna è stata gettata violentemente sui binari del treno da un 47enne senza alcuna ragione. Non c'è una motivazione a questo gesto se non una follia di fondo che ha determinato questa tragedia. È durata poche ore la fuga dell'uomo di 47 anni ritenuto il responsabile dell'aggressione ad una donna coetanea nella fermata Eurfermi della metropolitana di Roma. La vittima è stata travolta da un convoglio che stava arrivando proprio in quegli istanti. È miracolosamente sopravvissuta ma ha perso una mano e subito lesioni gravissime nell'incidente. L'uomo è stato trovato a casa sua come se nulla fosse, sebbene gli agenti del commissariato Esposizione, che sono intervenuti sul posto assieme ai colleghi della Mobile, lo descrivono come in stato confusionale. Avrebbe agito senza alcun motivo, per pura follia. Non conosceva la sua vittima. Ora è detenuto nel carcere romano di Reggio Inaceli in attesa della convalida del fermo. Deve rispondere di tentato omicidio. Per arrivare a lui sono state importanti le testimonianze dei passeggeri presenti in banchina, ma soprattutto le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione. Abbiamo avuto una profonda collaborazione con gli addetti alla sicurezza e vigilanza attacca in metro, che ci hanno fornito tempestivamente le immagini, che poi hanno consentito anche di risolvere investigativamente questo caso. La donna resta ricoverata in proniosi riservata all'ospedale San Camilo di Roma. Oltre ad aver perso una mano, ha subito gravi traumi e le sue condizioni sono definite critiche. Nicola Veschi, Sky TG24 Caso Veschi, Sky TG24 Dammi Giulio di Roma